A partire da venerdì sarà necessario esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro, una disposizione che potrebbe creare problemi in molti settori lavorativi, tra cui quello dei trasporti pubblici. Secondo una stima fatta a livello nazionale, le assenze a causa della messa in atto di questa misura, tra Novax e conducenti non disposti a fare continuamente tamponi, si potrebbero aggirare intorno al 10-15%. Nel caso di Adribus, che conta circa 250 autisti, si pensa che i conducenti contrari al vaccino possano essere una trentina. Un dato che fa temere disagio di interruzione di servizio del trasporto pubblico, soprattutto nel caso in cui, per via dell'assenza dell'autista, a saltare siano le corse più frequentate, come quelle del mattino, utilizzate da studenti e lavoratori. Per questo motivo, in mattinata, il prefetto Tommaso Ricciardi ha convocato il tavolo provinciale di coordinamento del trasporto pubblico. I disservizi su qualche linea potrebbero essere inevitabili, ma nel caso di assenza di autisti, si punterebbe a sacrificare le corse meno utilizzate per favorire quelle solitamente più affollate. In prefettura, oggi, Adribus si è presentata con l'intento di far fronte all'emergenza della carenza di conducenti, che potrebbe verificarsi venerdì, riorganizzando il servizio per ridurre al minimo possibili disagi.